Un temporale all'alba è una bomba d'acqua a metà mattinata per allagamenti, smottamenti e fiumi di fango nelle colline pesaresi. Per ore operatori della provincia, vigili del fuoco e forze dell'ordine di Pesaro e Monbaroccio sono intervenute oggi su diverse criticità createci sulle strade a causa del maltempo. Sulla provinciale 32 Pesaro-Monbaroccio si sono infatti registrati allagamenti un principio di frana di valle, tanto da rendere necessario il transito per alcune ore a senso unico alternato. La strada è stata più volte ripulita per il continuo ripetersi di violenti acquazzoni, così come sono stati necessari interventi per smottamenti di monte sul tratto iniziale del trebbio della sconfitta in direzione Candelara. Per due ore la strada è rimasta anche chiusa al traffico per consentire la rimozione di piante e terra dalla carreggiata. Altro lavoro dopo quello che martedì aveva visto allagamenti sulle provinciali Colbordolo, Pontevecchio e Carignano. Sì, dalle 5 di questa mattina che tutti i nostri operatori coordinati dal funzionario di turno Bertulli e dal direttore generale che sono impegnati sia noi operatori che le ditte da noi incaricate assieme ai vigili del fuoco, alla polizia provinciale e ai carabinieri. Una bomba d'acqua così importante, si parla di circa qui nella zona di 100 mm di pioggia, in pochissimo tempo questo è chiaro che ha creato scompiglio. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e tutto ciò ha permesso che non accadesse nulla. Il presidente della provincia, Pepino Paolini, stamattina ha seguito costantemente l'evolversi della situazione assieme al direttore generale. Abbiamo cercato di coordinare assieme ai vigili del fuoco, assieme alla polizia provinciale, insieme agli operatori della viabilità per un intervento, i carabinieri, per far sì che non succedesse nulla.